Buonasera, questa sera parleremo di una giornata, di un lunedì che è stato molto, molto febbrile a livello europeo, perché come titoleremo nell'apertura del nostro telegiornale, ricordando quello che è l'incipit del forse del più famoso panflet politico di tutti i tempi, uno spettro si aggira per l'Europa ed è lo spettro dell'uscita della Francia, dell'Unione Europea, quello che è stato evocato ieri da Marine Le Pen, uno dei due punti forti del programma con cui tenta di conquistare l'Eliseo, la presidenza della Repubblica Francese, l'uscita dall'Unione Europea, l'uscita dalla Nato. Ora tutti sanno che l'uscita dalla Nato è uno dei grandi pilastri nazionalisti francesi, fu de goal comunque a volere una force de frappe francese autonoma rispetto all'alleanza atlantica. E anche sull'Unione Europea è noto che non c'è una Costituzione Europea perché fu proprio il referendum francese nel 2005 a far saltare la Costituzione stessa che era già stata elaborata. Quindi ci sono latenti sia una voglia di uscire dall'Europa sia una voglia di uscire dalla Nato, in parte dell'elettorato transalpino. Ma questo diventa uno spettro per l'establishment europeo, per Bruxelles e per tutti i filo europei, per tutti gli europeisti del continente e dell'Unione. E questo si è subito trasportato ai mercati, oltre che a quelle che chiamiamo sempre le cancellerie, ovvero i governi più interessati. E cosa è successo? Che lo spread francese è schizzato, è aumentato del 21% in un sol giorno. Pensate che la Francia è molto calmirata nel rapporto tra i suoi buoni decennali e quelli tedeschi. È salita a 75, perché per i francesi è un campanello d'allarme enorme. Il problema è che, pur salendo in percentuale molto di meno, lo spread italiano, il differenziale tra i nostri buoni decennali e quelli tedeschi è arrivato a quota 200. Questo è un allarme secondo molti. Tra l'altro la Borsa di Milano è andata giù parecchio. Proprio oggi parlava tra l'altro Draghi e il Presidente della Banca Centrale Europea doveva rintuzzare un altro attacco all'Europa, quella delle parole di Trump che aveva detto, ricordate, attraverso un suo portavoce, un suo consigliere economico, è che la Germania in realtà manovra l'euro. È un marco camuffato, un marco travestito, tenuto basso apposta per essere competitivo sui mercati rispetto al dollaro. La risposta a questo Draghi, ma la verità è che la preoccupazione c'è anche per lui. Senza euro crolla l'Europa e sulla materia spread euro ovviamente si apre anche la polemica in Italia con Salvini che dice ci rischiamo col ricatto dell'euro, della moneta unica, dell'Europa che crolla e soprattutto dello spread. Ma vedremo anche che, come è chiaro, c'è tutta la politica in azione perché non si sa quando si vota ma si sa che ci sono regolamenti di posizione nei vari partiti. A cominciare da quello a cui tutti guardano, il PD dove c'è il fantasma del congresso, il fantasma delle primarie, il fantasma della scissione. E poi c'è il braccio di ferro su Roma del Movimento 5 Stelle che va al contrattacco, minaccia querele ai giornali, soprattutto all'Espresso che per prima, insieme al fatto quotidiano, lanciò la notizia della polizza, la famosa polizza Romeo con beneficiaria la RACI. Vedremo, vedremo cosa è successo, vedremo anche il nostro sondaggio del lunedì, ma soprattutto tra 30 secondi vediamo i titoli. In Europa avanza lo spettro di una nuova uscita di un paese importante con possibili conseguenze per la tenuta di tutta l'Unione dopo le parole di Marine Le Pen che ha appunto inserito nel suo programma per l'Elusio l'uscita dall'Unione e dalla Nato. Intanto l'avversario della Le Pen alle presidenziali, Fillon, candidato del centro-destra, chiede scusa per la vicenda delle consulenze parlamentari pagate alla moglie, ma è chiaro che a questo punto è quasi fuori dalla battaglia. E l'incertezza politica e il timore di una vittoria di Marine Le Pen da parte di coloro che la osteggiano e che tengono a una tenuta dell'Europa è cosa suscita innanzitutto un malessere così forte dai mercati finanziari da far aumentare in un sol giorno di oltre 20% lo spread francese e anche per l'Italia c'è un aumento, 200 la quota raggiunta che non si raggiungeva dal febbraio del 2014, cioè tre anni. Male anche tutte le borse, con Milano la peggiore, 2,2% la perdita, complice anche l'affossamento di Unicredit per l'inizio dell'aumento di capitale. E Draghi di fronte all'Europarlamento ricorda che è la moneta unica a tenere unita l'Europa in tempi di chiusure nazionali. L'Euro è irrevocabile, dice il Presidente della Banca Centrale Europea, che replica al protezionismo di Trump e difende la Germania attaccata dal consigliere economico del nuovo capo della Casa Bianca. L'Euro tutela tutti e non soltanto la Germania e Berlino non specola con il surplus, dice rivendicando la bontà delle decisioni politica monetaria. Parole dure di Renzi verso chi evoca la scissione del PD, il segretario del partito si dice pronto a un confronto nel rispetto alle regole dello statuto interno, poi conferma la direzione tra una settimana, ma nel PD ormai le divisioni sono sempre più accentuate, le correnti sempre più in contrasto, il rischio scissione è concreto. Sul caso Roma, duro attacco dei 5 Stelle, il giornalista dell'Espresso che ha pubblicato la vicenda delle polizze della Raggi deve chiedere scusa per questa campagna diffamatoria, dice Di Maio minacciando querele, gli risponde il direttore del settimanale, non vediamo l'ora che arrivi questa querela. Per due ragioni, le polizze sono state confermate e i regolamenti del Movimento 5 Stelle impediscono agli iscritti di parlare. Grillo sul blog elogia il lavoro della Raggi. Nel nostro sondaggio del lunedì vedremo come le ultime vicende hanno provocato dei cambiamenti nelle percentuali, ma resta la questione di sempre di queste settimane, ovvero che col sistema proporzionale uscita la sentenza della Corte Costituzionale non c'è nessuno che può arrivare alla maggioranza in Parlamento. Buonasera a molti argomenti, ma partiamo da quella che è la questione delle questioni. Se il 2016 è stato l'anno della Brexit, il 2017 potrebbe essere l'anno dell'uscita della Francia dall'Unione Europea e quindi della morte dell'istituzione comunitaria, intanto è quello che promette o minaccia, dipende dai punti di vista, Marine Le Pen. Marine Le Pen vuole rimettere ordine in Francia. Nel suo programma ci sono due punti che preoccupano Bruxelles e probabilmente hanno fatto sorridere Trump, avviare le procedure per un referendum che porti l'uscita della Francia dall'Unione Europea, la Frexit con successivo ritorno al Franco e poi l'uscita anche dalla Nato. Secondo gli ultimi sondaggi alle presidenziali di aprile Marine Le Pen vincerebbe al primo turno, ma partirebbe poi sfavorita al balottaggio contro l'avversario più probabile il centrista Emmanuel Macron. Per rafforzare la propria posizione a destra, Le Pen utilizza slogan che suonano ormai globali, prima la Francia e padroni a casa nostra, anche se poi il suo programma ha tra gli obiettivi proprio la lotta alla globalizzazione, quella dell'economia e del terrorismo. E infine l'uscita di Parigi da istituzioni cardine come UE e Nato. La Francia è stata riportata nell'alleanza da Sarkozy appena nel 2009, De Gaulle ne era uscito nel 1966. Marine Le Pen vuole seguire le mosse del generale sull'onda di un neo-isolazionismo che, almeno in altri stati, sembra essere vincente. L'uscita della Francia dall'Unione Europea e successivamente dalla moneta unica sarebbe poi il colpo letale per lui. Al momento i sondaggi danno a vincente Macron, anche perché l'altro candidato, François Fillon, fino a qualche giorno fa considerato il probabile vincitore in un ballottaggio con Le Pen, appare sempre più in difficoltà. Lo scandalo dell'assunzione della moglie ad assistente parlamentare con l'autostipendio, senza però che la signora si sia mai vista al posto di lavoro, potrebbe aver fermato la sua corsa. Oggi ha affrontato i giornalisti per ribadire che non ha nessuna intenzione di rinunciare all'Eliseo. Sono il resto il candidato che può portare ad una ripresa nazionale, ha detto Fillon, che però ha ammesso che è stato un errore assumere la moglie, anche se il compenso per quel posto era giustificato e le procedure sono state eseguite in maniera legale e trasparente. Insomma, ha chiesto scusa senza ammettere di aver fatto un passo falso. Ma qui la questione è molto chiara. La Francia sarà il laboratorio europeo? O prevale l'antieuropeismo, lo vogliamo chiamare così, l'euroscetticismo? Ma a questo punto, essendo nel programma l'uscita dall'Unione, si può parlare di antieuropeismo, di Marine Le Pen, o prevalerà il suo avversario, chiunque gli sia. In ogni caso, sarà anche quello francese, tra aprile e maggio, un nuovo referendum. Sarà l'equivalente della Brexit, quello che è stata la Brexit l'anno scorso per l'Europa. Sapendo che cosa vuol dire in più, se dovesse uscire uno dei paesi fondatori e uno dei paesi più importanti, resterebbe soltanto il nucleo formato da quello che una volta si chiamava Benelux, dalla Germania e dall'Italia a tenere in piedi, ma a quel punto probabilmente non sarebbe più in piedi l'istituzione europea. Bene o male che sia, perché ciascuno può pensare come vuole. Quello che è sicuro è che i mercati hanno reagito così. Lo spettro dell'uscita della Francia dall'Unione europea, la cosiddetta Frexit, allarma l'establishment del vecchio continente, ma anche i mercati finanziari e genera tensioni sui titoli di Stato, soprattutto nella stessa Francia, dove il differenziale col Bunda tedesco raggiunge quota 76 punti base, più 21% in un sol giorno e mai così alto da quattro anni a questa parte. Effetto collaterale per noi doloroso, lo spread italiano, balza in avanti di 20 punti, chiude a 199 dopo aver toccato quota 201, livello che non raggiungeva dal febbraio 2014 e che impone allo Stato di pagare interessi più alti, pari al 2,35% sul debito pubblico. A Milano, Piazza Affari chiude a meno 2,21%, ancora una volta è la peggiore, ma perdono anche Parigi, Francoforte, Londra e Madrid. Giornata nera, anzi in rosso, per tutti dunque. A condizionare la chiusura negativa del listino di Milano oggi sono stati anche altri elementi, le ormai consuete incertezze sulla stabilità di governo, la prospettiva del voto anticipato, le trattative in corso con l'Unione Europea sull'aggiustamento dei nostri conti pubblici che, per Bruxelles, è inesorabile, pena l'apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo. E poi loro, le immancabili banche. Proprio nel giorno del maxi aumento di capitale da 13 miliardi di Unicredit, il più grande nella storia della borsa italiana, il gruppo guidato dall'amministratore delegato francese, Jean-Pierre Moustier, ha chiuso, lasciando sul terreno il 6,86%, un crollo che ha trascinato con sé molte delle altre banche. Qualcuno potrà dire, vabbè, quello che succede sui mercati finanziari conta, ma fino a un certo punto, lo spread, sentiremo dopo la polemica anche italiana sul ritorno di quest'altro fantasma, appunto quello dello spread. La questione però è che piano piano tutte le teste del mosaico cambiano di colore, dopo la Brexit del resto c'è stato Trump in America. E Trump ha subito picconato l'istituzione europea, parlando attraverso il suo consigliere economico di una Germania che spadroneggia, e fin qui non è un argomento che non si è già sentito anche dalle nostre parti, ma che l'euro in realtà è un marco travestito, tenuto basso per poter meglio competere sui mercati ai danni del dollaro. Proprio a questo doveva rispondere oggi Draghi davanti all'Europarlamento, ma si può immaginare che abbia risposto a Trump, ma anche ai falchi tedeschi che pensano esattamente il contrario sulla moneta unica e anche alle vicende Marine Le Pen, spread e Europa. Se cade uno, cade anche l'altra. Quindi prima di tutto non siamo dei manipolatori della moneta. Buona parte del discorso di Draghi alla Commissione Finanza del Parlamento Europeo guardava oltreoceano a Trump e ai suoi consiglieri che accusano la Germania di danneggiare gli altri paesi dell'euro e di riflesso agli Stati Uniti con una moneta unica fortemente sottovalutata. Accusa indiretta, pesante, alla BCE. Draghi risponde in modo astuto, cita due studi americani, uno del Dipartimento del Tesoro e uno del Senato, dove si afferma che la BCE non interviene sui cambi da sei anni e che la Germania non ha manipolato la moneta in funzione commerciale. Per Draghi il tasso di cambio semplicemente riflette le condizioni economiche e la forza dell'economia tedesca. Parato il colpo, parte la stoccata. Un deputato gli chiede che ne pensa della decisione di Trump di svantellare le regole del settore finanziario a tutela dei risparmiatori. L'idea di ripetere le condizioni che hanno portato alla crisi finanziaria del 2008, dice Draghi, è qualcosa di molto preoccupante e l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Frase pacata che nel felpato linguaggio dei banchieri centrali equivale ad un pugno nello stomaco. Ai consiglieri di Trump non sarà poi sfuggita la critica al protezionismo. L'Unione Europea è nata e dice per abolire le tariffe, ma soprattutto la citazione fatta quando gli hanno chiesto un parere sull'utilità di avere monete nazionali per fare svalutazioni competitive. Ci siamo di nuovo? Ma per favore, risponde Draghi citando un famoso adagio di Ronald Reagan. Con le svalutazioni il mercato unico non sopravviverebbe e poi la moneta unica conviene, ci protegge dalle crisi. Perché metterla in discussione ora che l'economia si riprende e le cose vanno meglio? Persino l'inflazione, dice, sembra sulla retta carreggiata, anche se dipende in buona parte dal prezzo del petrolio. Frase ottimista, sì, ma che a scossi mercati senza inflazione si prospetta una scalata di marcia al quantitative easing con un impatto negativo sugli spread. Ma anche qua Draghi precisa, la politica finanziaria della BCE non guarda gli spread, ma la stabilità finanziaria. Questo è quello che diceva Draghi, ma Draghi ha anche risposto direttamente a quello che è una posizione presa e assunta anche all'Europarlamento dal Movimento 5 Stelle, in un cortocircuito sulla politica italiana che poi, come vedremo, va anche avanti. Scusi, quanto ci costa uscire dall'euro? E' questa più o meno la domanda che al Parlamento europeo il 5 Stelle, Marco Valli, pone al presidente della BCE, visto che, spiega Valli, per la prima volta qualche giorno fa Draghi, rispondendo ad un'interrogazione del Movimento, non avrebbe escluso questa possibilità. Lei dà la possibilità, una reversibilità dell'euro, cosa che fino ad oggi non era mai stata comunque nominata da parte sua, e che in caso di uscita comunque da moneta unica, un paese come l'Italia dovrebbe pagare alla BCE circa 351 miliardi, che sono queste passività sui saldi target tour. La risposta del governatore, in italiano e in inglese, non lascia spazio ad equivoci. L'euro è irrevocabile, the euro is irrevocable, questo è il trattato, this is the treaty, e la mia risposta alla sua lettera era una risposta a una domanda tecnica basata su ipotesi che non sono contemplate dal trattato. Parole che non fermano un dibattito avviato in Italia e destinato a caratterizzare la campagna elettorale, almeno a giudicare dalla reazione di Matteo Salvini, per il quale l'euro non è irreversibile. Spiace che un italiano sia complice di chi sta massacrando la nostra economia, il nostro lavoro, i nostri giovani, la nostra speranza, dice il segretario leghista. Prima gli italiani, chiunque si vuole alleare con noi, da questo deve partire. Controllo della moneta, controllo dei confini e delle banche. Un programma di governo che segna ancora una volta le distanze con chi nel centro-destra, vedi Berlusconi, non ha affatto intenzione di abbandonare i legami europei. Non a caso, se Salvini mette in guardia sulla risalita del differenziale con i bun tedeschi, ci riprovano col giochino dello spread a mettere paura, ci hanno fregato una volta, non ci fregano più, da Forza Italia Schifani replica, lasciano lavorare il governo in carica con serenità e responsabilità, anziché delegittimarlo attraverso l'incessante dibattito sulla legge elettorale e le immediate elezioni. Questo è quello che si agita a partire dal nuovo strattone che viene dato all'Europa dall'irruente discesa in campo elettorale per le presidenziali francesi e di Marine Le Pen. Ma in realtà era già tutto presente sotto traccia. La grande sfida iniziata lo scorso anno appunto con il referendum sulla Brexit tra europeisti e autori di un cemento delle istituzioni comunitarie contro picconatori vivrà tutte le partite elettorali di stagione proprio su questa vicenda. E come si sa anche in Italia ci si prepara a una campagna elettorale che forse non è mai finita, non finisce mai in Italia, ma che aspetta di conoscere dove viene messo lo striscione dell'arrivo, cioè il giorno delle elezioni e con quale regole del gioco soprattutto, in attesa delle quali si consumano, come si sa, le battaglie interne soprattutto. Incomprensibile. Matteo Renzi è duro con chi evoca la scissione. Mi dispiace che queste ore siano segnate anche da polemiche interne al PD, scrive il segretario del Partito Democratico nella sua E-News. Sicuramente crea un certo stridore vedere che nel mondo si discute di Trump ed Europa. Da noi invece la polemica è legata alla consueta battaglia interna su questioni appassionanti, forse solo per i diretti interessati. Renzi riavvolge il nastro e punta il dito contro la minoranza del partito. Dopo il referendum proponiamo il congresso e ci viene detto di no perché facendo la conta ci sarebbe stato il rischio di una rissa. Noi accettiamo nel nome della pace interna la scadenza congressuale del dicembre 2017, come previsto dallo statuto, ma venti giorni dopo, spiega l'ex premier, ci viene chiesto di fare le primarie, altrimenti sarà scissione. E in nome della pace interna accettiamo anche le primarie, ma ci viene comunicato, via interviste e talk show, che non bastano neanche le primarie. La miglior risposta, conclude Renzi, non è la rabbia, ma un sorriso. E annuncia il chiarimento definitivo alla direzione del 13 febbraio, estesa a parlamentari e segretari provinciali e trasmesse in streaming. Matteo Orfini rincara la dose. Basta con minacce, rancori e personalismi, scrive il presidente Demme in un articolo sul sito della rivista Left Wing, dal titolo eloquente Non rottamiamo il PD. Orfini avverte, le coalizioni non sono il rimedio per tutti i mali, sono contro la nostra storia, quello è il terreno per chi coltiva la scissione. Tornare a quell'impianto significa mettere in discussione le ragioni e l'esistenza del PD. L'1-2 Renzi-Orfini risponde al pressing insistente della minoranza Demme per fare il congresso anticipato, ipotesi che escluderebbe il ritorno alle urne prima dell'estate, con la convinzione che la proposta delle primarie possa spaccare alla sinistra del Partito Democratico e che sia possibile ritoccare velocemente i sistemi elettorali di Camera e Senato usciti dalle sentenze della consulta sui tali come Porcellum per renderli uniformi e andare al voto in tempi stretti, l'obiettivo del segretario del PD. Ma il governatore pugliese Michele Emiliano, già candidatosi alla segreteria del partito, ospite a carta bianca, sul Rai 3 torna alla carica. Abbiamo una procedura che è quella che poi ha fatto Renzi, segretario del partito e poi anche Premier, che passa attraverso un congresso con le primarie. Vedremo, questa è la battaglia che verosimilmente il PD si porterà dietro fino a quando non si saprà quando si voterà. L'altra battaglia, parallela, è quella del Movimento 5 Stelle che, come si sa, si è messo tutto attorno al Campidoglio a protezione dell'esperienza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, toccata dalle indagini della magistratura romana, dal lungo interrogatorio di giovedì scorso e anche dalle polemiche su quella famosa polizza. Tra l'altro, la questione della polizza è diventato proprio il pomo della discordia tra Movimento 5 Stelle e parte dell'informazione italiana, come stiamo per vedere. Quello stesso giornalista che aveva fatto quel pezzo, che poi si è rivelato vero, è lo stesso giornalista che lei ha intervistato qui qualche giorno fa e diceva addirittura che con quelle polizze era in atto un voto di scambio per portare Virginia Raggi al Campidoglio. Io penso che quel giornalista dovrà rispondere... Avanzava un sospetto. Sì, avanzava un sospetto, questi sono i soliti giochetti, ma quella persona dovrà rispondere per diffamazione. Di Maio, stamattina all'aria che tira, il nome di Fittipaldi non lo fa, ma poco importa. È contro il giornalista dell'Espresso, che aveva tirato fuori la storia delle polizze di Romeo, che punta il dito, ipotizzando che anche la Raggi possa querelarlo. Sicuramente è una persona che in quel momento ha peccato di disonestà intellettuale. Quindi lei querelerà in piano Fittipaldi? Io spero che la sindaca lo faccia, il Movimento lo farà, sicuramente. Nella Raggi non si sa, ma si sa di Fittipaldi, che ha risposto a strettissimo giro. Non ho mai scritto niente sul voto di scambio, non sono scemo, ho avuto 150 querele in vita mia, ma non ne ho persa una, perché evito di scrivere puttanate. Potrei io stesso querelare Di Maio, perché mi darle il disonesto intellettuale? Non lo faccio, perché io non querelo mai nessuno. E poi per l'Espresso entra in campo anche il direttore. L'Espresso risponde che non vediamo l'ora, e non vediamo l'ora per due ragioni. La prima, che le polizze di cui noi abbiamo parlato sono state confermate sia dal contraente che da chi aveva in qualche modo l'ipotesi di un beneficio a sua insaputa. E sia perché i nuovi regolamenti del Movimento 5 Stelle impediscono, a detta di Grillo, agli iscritti di parlare. Siccome queste polizze sono rivolte in larga parte, non soltanto questa, ad iscritti, se proprio Di Maio, che è uno studioso, o almeno uno studente di giurisprudenza, ci vuole in procura, beh, lì saremo in grado di avere proprio da questi iscritti che hanno il divieto di parlare, quelle informazioni in più che forse il Movimento 5 Stelle dovrebbe dare, anziché nascondere, su questo caso, che è un caso di trasparenza politica. Ma nella giornata degli scontri diretti non era questo l'unico, c'era anche quello ingaggiato, sempre da Di Maio, sempre per lo stesso motivo, contro il Presidente dell'Ordine Nazionale dei giornalisti, Enzo Iacopino, cui il Vice Presidente della Camera chiedeva scuse a nome della categoria per la campagna anti-raggi giudicata piena di falsità. E anche in questo caso arrivava la risposta. Sono da sempre restio e contrario alle generalizzazioni e ai processi sommari, ha detto Iacopino, sia se si tratta di politici, sia se riguardano i giornalisti. Le considero nemiche della verità. Colpevolizzare un'intera categoria, come fa il Vice Presidente della Camera, significa offendere migliaia di colleghi che ogni giorno lavorano per informare correttamente i cittadini. Non ho difficoltà ad ammettere che ho letto le cronache ricche di particolari interpretazioni che nulla hanno a che vedere con la verità documentale che era già a disposizione della magistratura. C'è bisogno di verità piena, ha aggiunto, senza effetti speciali. Tutto questo, in qualche modo, dovrebbe andare a impattare sulle opinioni e sulle propensioni al voto degli italiani. E chissà, non sappiamo neanche come si vota e quando si vota. non sappiamo come, nel senso qual è il sistema elettorale che alla fine sarà perfezionato, se se ne troverà uno che mette d'accordo tutti, se no si voterà con quel che c'è dopo la sentenza della Corte e soprattutto quando si voterà. E sappiamo che il tempo a volte dilata, modifica le opinioni e le posizioni a seconda di quel che succede. Ma tant'è, se si votasse oggi, vediamo. Il PD perde lo 0,7% al 30,5. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,1% al 28,1%. Lega Nord meno 0,5 al 13,5. Forza Italia più 0,5 al 12,1. Fratelli d'Italia più 0,1 al 4,6. Sinistra italiana più 0,4 al 3,4. Stabile il nuovo centrodestra al 3,3%. Vediamo adesso un altro cartello. Le stime seggi per lista ovvero con i voti visto che c'è il proporzionale e fino a provare il contrario il proporzionale resterà. C'è, come si sa in questo momento il premio di maggioranza al 40%. Ma abbiamo visto che non ci si avvicina nessuno. Il PD prenderebbe 201 seggi Movimento 5 Stelle 180 Lega Nord 86 Forza Italia 79 Fratelli d'Italia 29 Sinistra Italiana 22 Nuovo Centrodestra 21 Altri partiti 12 Seggi complessivamente Citroën Volkspartei ed altri Allora però come vediamo tutte le alleanze possibili e anche quelle quasi impossibili l'ultima come vedete è Lega Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle un'alleanza diciamo euroscetica da quel punto di vista solo può esistere ma viene smentita da tutti o anche tutte le altre che vediamo quelle più possibili nessuna si avvicina se non quella larga PD Forza Italia Nuovo Centrodestra e Autonomie che arriva a 307 ma anche quello non basta come vedete perché la maggioranza alla Camera è di 316 eseggi insomma o cambia la legge o cambiano le cose qualcuno arriva al 40% Omasia qui non si va da nessuna parte mi sa che ci sarà lavoro per lei molto presto per ulteriori elezioni come successe in Spagna ecco come contento subito la prospettiva la solletica immediatamente certo da un lato ne sarei molto lieto dall'altro sarei un po' meno felice per il Paese ma indubbio come diceva lei che questa legge almeno lo Stato attuale parrebbe essere inadeguata esprimere una maggioranza siamo a 307 nell'ipotesi di larghe intese quindi da sinistra fino al centro di Forza Italia ma comunque lontani dal 316 è sufficiente e voglio dire anche se fossero 320 o 325 governare sarebbe molto complesso quindi sarà opportuno o trovare una legge sufficiente esprimere una maggioranza ma sarà molto complicato o creare un super listone in grado di passare questo 40% ma è complesso Diciamo una cosa importante nell'immediato perché noi a seconda di come vanno settimana per settimana siamo o grillini o del PD o leghisti o di Forza Italia e questo sondaggio è stato fatto nel fine settimana sabato sostanzialmente tra venerdì sera e domenica sera e domenica sera quindi la sostanza con già sul tavolo la questione raggi interrogatorio polizia eccetera quindi si vede che almeno apparentemente i 5 Stelle non ne risentono in questo momento no infatti 28 e 28.1 sono sostanzialmente lo stesso numero quindi diciamo che la questione romana è fondamentalmente stata metabolizzata parrebbe dall'elettorato in questo momento a meno di fatti eclatanti non dovrebbe incidere quindi mi aspetto un assestamento o un ulteriore miglioramento del Movimento 5 Stelle ricordiamo che a novembre erano addirittura arrivati quasi al 32% quindi una percentuale di consenso assolutamente lusinghiera considerando che le politiche faccio l'ultima domanda che vale per tutti per il PD e per il Movimento 5 Stelle secondo lei è possibile o è impossibile che un movimento o il partito cioè in questo caso o il movimento o il partito possano pensare di arrivare al 40% che è la soglia per avere il premio di maggioranza dobbiamo ragionare per probabilità la probabilità è prossima allo zero evidentemente anche per come è fatto l'elettorato poteva dirlo anche diversamente poteva passare e dire no va bene allora rispondo così direi di no ecco grazie a lunedì a lunedì prossimo allora dopo di noi c'è una puntata importante di 8 e mezzo perché gli ospiti di Lili Gruber sono Eugenio Scalfari e Paolo Mieli ma dopo c'è la prima puntata di Bianco e Nero che è il programma con cui la 7 torna a occuparsi delle grandi vicende di cronaca non dal punto di vista palp diciamo che altri come è legittimo frequentano ma con una con un'ottica ragionata conduce Luca Telese che conoscete e ci sono tantissimi ospiti che vedrete del resto scoprirete se come spero farete seguirete il programma noi intanto ci fermiamo e infine Wall Street dopo il lunedì difficile le borse europee diciamo che è in negativo anche Wall Street ma parliamoci chiaro in maniera molto frazionale Dow Jones meno 0,15 Nasdaq meno 0,17 è tutto Gruber poi Telese ci vediamo domani sera buonasera buonasera grazie a tutti